Io sono contentissima. È finito un incubo così la mamma di Elena, la ragazza di ciasettenne ritrovata nelle scorse ore con un blitz della polizia in un appartamento a Grosseto. È sollevata per riabbracciarla la ragazza in questo momento. È ricoverata in ospedale e per l'avvocato. Si tratterebbe di sequestro di persona. La ragazza mi ha manifestato che è stata sottoposta a limitazione della libertà contro la sua volontà. La ragazza, lo ricordiamo, mancava di casa. Dal 7 agosto scorso... Le posso dire che la liberazione è il frutto di una costante collaborazione che c'è stata tra la famiglia, le forze polizia e la procura della Repubblica. Ora siamo nella fase più delicata delle indagini e quindi è chiaro che non può essere rivelato niente di quel poco. E so perché, peraltro, io non so cosa stanno facendo. Ovviamente sono difensore da parte offesa. Quindi non so nemmeno se stanno valutando misure, fermi o altro. Questo non so nulla. Un vero mistero la sua scomparsa. Ma adesso, in attesa delle evoluzioni delle indagini, l'importante è che abbia riabbracciato la famiglia. Perché ora sono le indagini in corso e quindi siamo in silenzio totale. Un'altra cosa, sua figlia sta bene? Sì, 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 grazie. È finito un incubo? È finito, è vero, è finito.